Con Guida Valore Casa è stata scattata una fotografia dettagliata del mercato immobiliare in Liguria. Quali sono i dati più importanti relativamente al 2018 per la provincia della Spezia? Il 2018 nella provincia della Spezia ci sono state 2.593 transazioni. La maggior parte di queste si sono verificate in la Spezia capoluogo. Ciò evidenzia una buona vivacità del mercato residenziale in città. Seguono la Val di Magra con la riviera Spezzina di Levante, trend negativo per l'entroterra Spezzino. Per quanto riguarda invece la riviera Spezzina di Ponente c'è stato un vero e proprio aumento esponenziale delle vendite rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda i valori di mercato, leggera flessione in generale, maggiormente nella Val di Magra, tengono bene i valori in centro città e della fascia costiera. Come si inserisce il mercato del mattone Spezzino nelle tendenze regionali? Il 2018 è stato un anno di crescita per le compravendite immobiliari anche in Liguria. Le compravendite immobiliari hanno avuto un vero e proprio incremento, anche se una crescita meno significativa rispetto agli anni precedenti, quindi con dei segnali di ripresa più lenti rispetto al 2017. I valori di mercato hanno registrato un segno negativo praticamente in quasi tutta la regione. La Spezia, con le sue 2.593 transazioni, risulta essere la provincia più piccola della regione, anche se rispetto ai quattro capoluoghi Liguri la Spezia capoluogo è seconda al Comune di Genova. Questo è un dato da evidenziare, un dato importante, perché ci fa capire come la dinamicità e la crescita del mercato Spezzino rispetto nel panorama delle transazioni regionali. Che consigli dà FIAIP a chi vuole acquistare una casa nello Spezzino? Il mio consiglio sicuramente è quello di rivolgersi ad un agente immobiliare per acquistare o per vendere. Una FIAIP è un progetto che prevede di svolgere il nostro lavoro, la nostra attività, secondo un modello di professionale di riferimento, un modello operativo comune che garantisca l'inserimento sul mercato immobiliare di immobili ad un prezzo controllato, immobili garantiti e certificati. Grazie a tutti.